Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schianato da IRforex.com e in questo video voglio parlarvi di tre elementi fondamentali per una buona riuscita nel trading. Questi tre elementi sono, diciamo, la mia esperienza, quindi poi non per forza devono essere visti come gli unici elementi che possono essere di aiuto nel trading. Nel mio caso, nella mia esperienza, sono questi tre. Il primo elemento è il cercare di avere una visione il più possibile oggettiva di quella che può essere la scena dell'asset, del mercato che sto seguendo, quello che può avvenire in quel mercato. Questo non significa avere aspettative sul movimento di un mercato o cercare di prevedere il mercato. Questo significa, rispetto al proprio metodo, fare un'analisi il più possibile oggettiva e capire quella che può essere la situazione che avverrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e che a livello statistico può darci un vantaggio competitivo. E io ho notato che questo non si fa con un sistema, diciamo, automatico, cioè c'è questo più questo per forza fa quello. Per esempio, un incrocio di medie o un indicatore o più indicatori che ci dicono delle cose. Ma sapete, poi io uso esclusivamente l'analisi del prezzo. Si fa ragionando, e sottolineo ragionando, in base a quelle che sono le informazioni dei prezzi che ci vengono date ogni giorno, sempre su TimeFrame Grande, mensile, weekly, daily. E da lì, appunto, ragionando, riuscire a farsi un'idea, quindi avere una visione il più chiaro possibile di quella che può essere la scena possibile del mercato, la scena futura del mercato. Quindi, tra più punti di vista, cercare di avere un punto di vista ampio che ci permette di sapere come si vuole operare su quel mercato. Long, short o stare flat. Questa, ovviamente, è la parte, diciamo, più tecnica, quindi che va sicuramente sviluppata con la formazione, con l'esperienza e acquisendo un metodo. Il secondo punto importante, poi, che ho visto nella mia esperienza per avere una buona riuscita nel tempo, una buona costanza nel trading, è quello di mantenersi disciplinato e razionale in tutti i momenti di mercato, soprattutto in quelli dove potremmo essere più sotto pressione dovuto magari a un momento proprio del mercato. Quindi, quando la nostra posizione magari non sta vivendo un profitto, ma magari un momento in cui la posizione è in perdita. O siamo comunque in un buon profitto e quindi viviamo, diciamo, la pressione che ci dà quel momento, cioè il fatto di pensare se sia meglio chiudere la posizione o mantenersi a mercato. Ecco che il mantenersi, direi proprio, disciplinato e razionale sono le due cose su cui dobbiamo lavorare. Quindi, riuscire a migliorare l'approccio, migliorare il proprio mindset, la disciplina e quindi anche il mantenimento di una certa razionalità è fondamentale per poi ottenere risultati nel proprio trading. E devo dire che questo anche può dipendere dal primo punto. Cioè, se io mi sono creato con razionalità un'analisi molto oggettiva di quello che può accadere, avrò più facilità, ovviamente ci vuole tempo, esperienza e anche studi di se stessi, ma probabilmente faremo più, sarà più semplice cercare di mantenersi sicuri in una posizione di trading che abbiamo acquisito. Poi ovvio, io faccio operazioni che durano qualche giorno, qualche settimana e quindi ho il tempo per razionalizzare il tutto, per cercare di pianificare, ragionare, che è molto importante. Come ho appena detto, se il ragionamento non si riesce a fare perché abbiamo talmente tante informazioni troppo velocemente, poi può succedere che in realtà il trading diventa un qualcosa che ci peggiora la qualità della vita e non che ce la migliora. Il terzo punto poi è quello di prendere, secondo me, i giusti rischi sul mercato senza mania di grandezza, diciamo. Ovviamente sappiamo che in qualsiasi attività imprenditoriale, senza rischi, è difficile riuscire a ottenere dei profitti. Nel trading questo è assolutamente chiaro, quindi diciamo che per guadagnare nel tempo e riuscire quindi nel trading dobbiamo prenderci dei rischi che devono essere equilibrati con la nostra esperienza, con la nostra capacità di gestione emotiva e il nostro capitale che abbiamo a disposizione per il trading. Di questo dobbiamo prenderci giusti rischi. Mantenersi quindi sempre molto umili sul mercato è sicuramente la via. Come avete visto, diciamo che quello di cui ho parlato in realtà sono le classiche 3M di cui parlo spesso, ovvero metodo, money management e mindset. Diciamo che sono tre elementi fondamentali per costruirsi la propria carriera nel trading. Direi quindi che anche per oggi è tutto. Spero che questa pillolina di trading possa supportarvi e aiutarvi nella vostra operatività o magari farvi ragionare per migliorare la vostra operatività. Con questo è tutto. Io vi auguro una buona giornata, un buon trading simple. Ma prima vi chiedo di lasciare un bel like e se non siete iscritti al canale di iscrivervi e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao!